Peter Richard viene dall'Inghilterra e è venuto a presentare il suo singolo Strange Desires, Peter Richard! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Il suo singolo Strange Desires, Peter Richard! Grazie! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!